Oggi vi parlo della gouache. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un nuovo video dedicato a una tecnica pittorica antichissima ma che sul nostro canale non abbiamo mai affrontato. La gouache è una tecnica pittorica bellissima e anche, non dico semplice, ma agevole da portare avanti. Agevole per una serie di motivi, perché non ha odori particolari, perché è sicca l'aria, non necessita di solventi o diluenti o medium che le diano una connotazione olfattiva sgradevole. È una pittura che può essere svolta tranquillamente nello studio di casa nostra senza portare a recare disturbo né a noi né a chi ci circonda. In più, è una tecnica pittorica che io definisco di mezzo. Si pone in mezzo tra tante tecniche pittoriche. Intanto è solubile in acqua, come l'acquerello e come l'acrilico. Ma è anche pastosa, come l'acrilico e come il colore ad olio. La sua pasta materica ricorda molto, molto quella del colore ad olio visivamente nella palette. Una volta stesa, però, è una pasta completamente differente ed ha una resa completamente differente dalle tre che vi ho appena citato. Si discosta totalmente dall'olio per il finish opaco che assume una volta asciutta. E questo la fa assimilare moltissimo alle tempere, da cui si discosta però nella formulazione perché nella gouache, ciò che la differenzia dalle altre tecniche pittoriche, è che insieme ai leganti e al pigmento c'è sempre una componente, una parte di pigmento bianco. Questo pigmento bianco le conferisce una particolarità. La coprenza riesce a coprire gli strati pregressi e di conseguenza è idonea per una pittura che vada dall'oscuro al chiaro, a differenza dell'acquerello che deve andare per esempio sempre dal chiaro all'oscuro. Allora voi mi direte, allora è una tempera? Non è neanche una tempera perché, a differenza della tempera, la gouache ha l'elemento trasparenza che può essere sfruttato. Può essere diluita tanto da rimanere trasparente quasi come l'acquerello. Però, a differenza dell'acquerello, tenderà a toni più pastosi, più materici, più spessi, diciamo così. Sarà una trasparenza opaca, non traslucida, non eterea come quella degli acquerelli. Questa tecnica ha una particolarità, non può supportare le velature. Essendo una tecnica che si diluisce con l'acqua, nel momento in cui l'acqua ritolca la pellicola pittorica formata, si la fa rinvenire, cioè il pigmento si scioglie di nuovo. Non è come le tempere che abbiamo visto. Le tempere di solito hanno un legante grasso, proteico, che le tengono molto stabili sul supporto. La gouache invece in questo assomiglia molto all'acquerello e rinviene se viene bagnata, però rinviene molto di più dell'acquerello. Questo, che potrebbe essere visto come un difetto, ma se la si sa usare, un difetto non è. In realtà è un suo grande pregio, perché limita moltissimo lo spreco del materiale. Infatti la gouache può essere conservata anche in tavolozza e può essere fatta rinvenire di volta in volta per riutilizzarla ogni volta come se fosse nuova. È anche vero da dire che una gouache essiccata e fatta rinvenire non avrà mai la stessa elasticità, la stessa pastosità, la stessa bellezza, lasciatemi passare il termine, di una gouache fresca. Ma, ma, per chi è principiante, vuole imparare la tecnica e vuole contenere gli sprechi, questa è una grande opportunità. In questo senso appunto si comporta molto come gli acquerelli. Ma adesso vediamo la gouache in campo e vediamo la differenza magari proprio con l'acquerello e con l'acrilico. Vediamo come si comporta di volta in volta. Useremo per questo video la gouache della My Mary, in cui se vorrete vi parlerò nello specifico in un video dedicato alla recensione di questo prodotto. Fatemelo sapere tra i commenti, è un prodotto made in Italy, quindi garanzia di successo. Vediamo come si presenta la gouache in bellissimi tubetti, facilissimi da spremere in una tavolozza. Io ho qui una tavolozza di carta che userò per un video che ho girato precedentemente. Ho qui tutta la gamma colori già spremuta da un'oretta e come vedete è già tutto quasi secco. Quindi, adesso, per farvi vedere la gouache nel suo splendore, prenderò un terra di siena, un bel colore che ne so, un bel, avanti un rosso scarlato, un bel colore vivido e vi parlerò, appunto, di questo tipo di colore. Allora, come si presenta la gouache? Innanzitutto, come vi dicevo, la gouache si presenta molto simile ai colori acrilici o ai colori ad olio. Una pasta cremosa con una sua consistenza, anche granulometrica, a seconda del pigmento. Ci sono pigmenti che si risolvono in maniera più vellutata in acqua e pigmenti in cui la granulometria, seppur infinitesimale, si mantiene. Per esempio, questo rosso scarlato è un pigmento con una granulometria più intensa rispetto, che ne so, a un terra di siena, che invece prende l'acqua e la fa subito sua, che appare liscia, liscia, liscia alla vista. Vedete? Pur essendo della stessa gamma, è la stessa marca di colori. Quindi tutte, qui stiamo trattando del non plus ultra della gouache, della gouache ultrafine. Allora, come si lavora la gouache? Come vi dicevo, è solubile in acqua, quindi con un pennello bagnato la si preleva e si fa il guazzetto, la gouache appunto, in modo da dare una bella pennellata piena che dia una campitura netta, coprente e vellutata. Caratteristica di questo colore è la pienezza e la vivacità del tono, che si accentuerà con l'asciugatura, perché il bianco contenuto all'interno della mestica del colore darà uno sprint di freschezza e vivacità che alcuni chiamano pastellato, ma io non sono d'accordo con questa definizione. Io chiamerei più vellutato, che porta il tono a schiarire di mezzo punto in più rispetto al colore in palette, in tavolozza, ma che, se guardiamo bene, non è una vera e propria scoloritura, una schiaritura, è più una diversificazione di guizzo, di tono a livello di vivacità, di esposizione del colore, diremmo in termini fotografici, ma ora vedremo. Adesso, così il colore è in purezza, ma vi ho detto che la gouache può essere usata anche in maniera molto diluita. Guardate qui come sto diluendo il colore e riesco a fare anche delle campiture così, molto diluite, che non chiamerò acquerellate, perché, sebbene sia la trasparenza, da asciutto vedrete che sarà una trasparenza un po' opacizzata, non traslucida come quella degli acquerelli. La sfumatura è possibile passare da questo tono a questo tono, sfumando, quindi mettendo questo tono all'inizio, quindi aggiungendo via via dell'acqua e portando in giù questo tono. Poi un modo in cui io amo creare la sfumatura e portare così dall'esterno, diciamo dalla parte finale alla parte iniziale il colore e facendolo un po' ridiscendere. In questo io lo lavoro molto similmente, ecco qua, la mia sfumatura, molto similmente all'acquerello, in maniera molto simile all'acquerello. Se vedo di aver caricato troppo di acqua, come con l'acquerello, tiro via, qualora volessi una sfumatura di colore. Se invece voglio una sfumatura, che sia una vera e propria sfumatura, che vada dallo scuro al chiaro, in pittoricità, e allora, niente, prendo semplicemente, magari se non sporco il foglio, faccio una cosa buona, prendo semplicemente dell'acqua, tiro via l'eccesso e sfumo, molto semplicemente, tirando ciò che della materia ho. Ma come vedrete, passata in questa maniera, tenderà sempre a creare una patina unitaria, questo colore, a venire fuori in maniera sempre unitaria, mentre mettendo una base più chiara da una parte, si riuscirà a lavorare e a creare la sfumatura. Se invece volessimo sfumare l'un e l'altro due toni, che ne so, il rosso e il giallo, si può fare, o in palette creando un arancione, quindi, e si crea così l'arancio, vabbè, ma questo va da sé, è pressoché ovvio, ma se io voglio fare una transizione che vada dal rosso, pieno, all'arancio pieno, dov'è l'arancio pieno, al giallo, cioè scusate, al giallo pieno, passando per l'arancione, devo muovermi in questo modo. Allora, do il rosso e vado giù, pulisco il pennello, prendo il giallo e vado verso su, bagno al centro, faccio incontrare le due coloriture, scendo, 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 e voilà, e arrivo al giallo, tutt'al più, se volessi accentuare una carica di giallo, porterei in dentro e lascerei asciugare, si lascia asciugare perfettamente e su di esso si può andare con un colore più chiaro, quindi io sul rosso, per esempio, potrò andare con un giallo, stando attenta, però, e subito spagna, stando attenti a non tergiversare troppo sul colore, perché il colore a guazzo, una volta che viene riumidificato, rinviene e quindi si diluisce nuovamente, vedete, si può nuovamente fluidificare, come vi dicevo, questo è un pregio, ma è anche un difetto della tecnica, se siamo soliti andare per velature, il guazzo non è proprio la tecnica ideale, per le velature allora meglio una tempera che abbia più con l'animale o addirittura un acrilico. Adesso vediamo la differenza, metto la guascia al centro e pongo e vediamo appunto la differenza, la metto sia così in forma compatta, diciamo in purezza che diluita e adesso vediamo cosa succede con un acrilico da questa parte e un acquarello da quest'altra la vasta materica è molto simile lo metto qua l'acrilico adesso però già al passaggio si nota la differenza l'acrilico essicca ancora più velocemente lascia un film più superficiale in che senso direte voi nel senso che la guascia penetra di più nella fibra del foglio e si vede e lascerà anche un finish differente meno vellutato vado di diluizione molta più striature in diluizione d'acrilico e più perdita di tonalità adesso passiamo all'acquarello prendo un buon acquarello prendo un windsor e newton lo passo un po' più intenso diciamo così lo posso anche passare più pastoso se volete ecco in questa guaccia in questa parte lo passo più intenso come non si dovrebbe passare l'acquarello perché l'acquarello lo snaturi se lo passi così voilà e lo passo appunto come passare un acquarello molto diluito eh sì capite la differenza così si capisce perfettamente la differenza la gouache è al centro lasciate perdere questa parte la gouache è al centro guardate il velluto che viene fuori dalla coloritura di questo colore è l'unico che ha una compattezza e una corposità ha quasi una texture che viene visivamente fuori dal foglio lui più piatto più anonimo più moderno anche più freddo lui più traslucido fa ancora vedere il fondo del foglio nella parte invece trasparente lui mantiene un tono vivido è il bianco che c'è in mezzo che lo fa venire fuori così in maniera allegra diciamo lui è completamente traslucido ma non abbandona la tonalità si capisce che è lo stesso tono diluito lui tradisce perché l'acrilico non è fatto per essere lavorato in maniera trasparente e anche se è un ottimo acrilico quello che ho usato tradisce innanzitutto lasciando più striatura e poi tradisce il tono non è non rimane della stessa tonalità ma i pigmenti dissolvendosi assurgono a un nuovo tono quindi non è lo stesso tono più chiaro ma proprio vira di tono di conseguenza ad ogni pittura il suo l'unica che può essere usata in maniera bellissima sia da compatta che da diluita sia da materia in pasta giusta quindi nel suo pieno che è in maniera diluita è la gouache la pittura che sta in mezzo tra l'acquarello e la tempera tempera che deve essere sempre usata così e acquarello che deve essere sempre usato in maniera più diluita magari anche così possiamo usarlo in certi momenti ma in generale la diluizione è una diluizione che sta in mezzo a queste due che ha una coloritura più forte ma comunque una trasparenza di foglio molto importante quindi questa tutta sì sì ok adesso su questo pezzettino di carta faremo un piccolo disegno sfruttando la gouache che ho qui residua nella tavolozza nulla di che è nulla di grandi pretese un piccolo quadratino per dare un fondo mosso utilizzo una serie di verdi posso sempre mosso nella tinta ma non nel passaggio e poi appunto miscelo insieme appiattendo e attendendo la totale asciugatura la gouache non consente la lavorazione di bagnato su bagnato se io adesso immettessi lo strato di colore successivo farei rinvenire in maniera troppo semplice ciò che ho messo precedentemente formando un pastone nel migliore dei casi nel peggiore invece farei un buco alla pittura nel senso uno strappo di pellicola pittorica che sarebbe veramente difficile da colmare nel senso si creano delle zone di vuoto dove il colore non aderisce più come per l'acrilico come per la tempera come per tutti i colori di questa natura una volta fatta asciugare la gouache bagno del bianco lo aggiungo al verde che avevo utilizzato aggiungo anche del giallo e con un pennellino adatto alle dimensioni di cui voglio creare creo una serie di filini di cui la di cui la la di cui la e ora è un piccolo quadretto è fatto in 4 e 4 8 vi ho detto una cosa di poche predesse è proprio per farvi vedere come si sovrappongono e si mischiano bene tutti i colori insieme ed ecco la gouache la chiave di mezzo tra la tempera e l'acquerello una pittura moderna romantica antica vivace schietta vellutata accogliente meravigliosa questa è la gouache vi lascio le foto e ci vediamo subito dopo bene avete visto? come è semplice e bello dipingere con la gouache vi ho fatto vedere un pochettino tutte le casistiche in cui potete utilizzare la gouache vi ho fatto vedere anche come il colore rinviene anche da asciutto quindi state attenti quando portate avanti i vostri lavori non pensate per esempio che possiate velare un volto perché se no nel momento in cui passate il pennello bagnato per dare una velatura vi portate via tutto sappiatela utilizzare e sarà uno strumento versatile e bellissimo per le vostre pitture paradossalmente la gouache che è sempre stata una tecnica molto antica è molto utilizzata per pitture piatte ultramoderne per delle fantasie che siano appunto molto colorate molto vivide perché proprio questa sua caratteristica di essere pigmento e pigmento bianco fa sì che il pigmento non soltanto disulti più coprente ma anche un pochettino più pastelloso e dico lasciatemi passare il termine e di conseguenza i toni vengono su in maniera più vivida attenzione la gouache cambia di tono con l'essiccazione in una maniera duplice i toni più chiari scuriscono leggermente e perché il pigmento nei toni chiari prende il sopravvento sul bianco e quindi fa scurire in essiccazione i toni scuri invece schiariscono leggermente perché il pigmento bianco si fa presente nella mestica e quindi abbassa di un tono lo scuro che abbiamo dato di conseguenza tenendo sempre presente questa scaletta cromatica carichiamo maggiormente o in maniera minore la tonalità del disegno a seconda dell'effetto finito che vogliamo ottenere la gouache è compatibile con diversi tipi di supporti tutte le tavolette preparate e le carte quelle che si possono usare le normali carte che resistono all'umidità quindi carte per acquarelli carte per aclirici ma anche tele anche la tela se ben tirata e rigida può essere dipinta con la gouache meglio se la tela è poggiata su una tavoletta in modo da essere più stabile e non piegarsi perché avendo una materia un pochettino più lasciatemi il termine grassa la gouache può andare incontro alla screpolatura per far sì che questo non accada basterà anche fissare con una normalissima vernice opaca per tempere bene vi ho detto tutto sulla gouache adesso andate e sperimentate divertitevi a creare i vostri primi lavori in questo video ho usato la gouache della My Mary se volete la recensione di questo tipo di prodotto fatemelo sapere perché potrei farvi un video ad hoc in cui vi faccio vedere la resa di ogni singolo colore opaca diluita e le varie casistiche che abbiamo già visto in questo video su un colore soltanto lasciatemelo scritto tra i commenti e se avete altre curiosità sulla gouache lasciatele sempre scritte tra i commenti perché vi risponderò o qua sotto o nel prossimo video dedicato bene non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video da Ombretta e da Arte per te è tutto alla prossima volta ciao